Previsioni meteo per domenica 20 settembre. Al nord, tempo a tratti ancora instabile tra Valpadana a Medio Bassa, Lombardia e Romagna con piogge temporali in marcia da ovest verso est. Al centro, ancora variabile sulle peninsulari con piogge temporali sparsi dal pomeriggio sui settori interni in confinamento serale sul medio adriatico. Al sud, tempo in peggioramento su Sicilia, Calabria, Basilicata e Medio Bassa Puglia con piogge sparse e locali temporali. Venti moderati, mari da mossi a molto mossi, temperature in lieve flessione.